Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi siamo sul nostro desktop perché vi farò vedere il programma che uso e perché i nuovi youtuber che verranno in questa piattaforma potranno usare questo video come inizio di una nuova carriera sul pc. Io uso Action e mi sto trovando benissimo anche con gli fps, anche se ho un pc così così. Qua possiamo dire un Intel Core i7 4710 HQ, 8 giga di ram e vabbè Windows 10 e andiamo andando sempre più in dettaglio la O, quella dell'Intel normale, Tegrata e la GeForce 820. Questa qua è la mia scheda grafica. Passiamo al video che il video di oggi parla di come scaricare Action, Action qua, è gratis perché io installerò prima la versione di prova e dopo metteremo la serial key che ho trovato io su internet e funziona ancora. L'ho vista questo qua, l'avevano pubblicato in un sito web a marzo quindi dovrebbe funzionare ancora come è funzionato. Qua si scarica e va attivo, parte il download. Quando voi avete finito il download lo trascinate qua sul desktop, ragazzi così si trascina sul desktop e vi troverete questa. Io vi consiglio di fare il tasto destro e i file in Action by Lollipastrix e dopo di che lo apriamo. Apprendolo? Ci sono queste tre. Questa qua ragazzi ho visto su internet che non funziona più, non so il perché. Quindi facciamo il setup. Ti chiederà di installarlo. Voi direte di sì. Italiano avanti. Accettiamo tutto. E in parte della lista di installazione. Ok, è stato installato sul nostro computer. Fine. Ci porterà direttamente alla pagina che non si ha. Dovremmo andare qua dove c'è il bloccato. Attivazione. Licenza per. Mettete un nome che volete. Io metto il mio. Ok. E qua entrano in gioco le serial key. Come serial mettiamo questa qua. Ragazzi aspettiamo attivazione completata ragazzi. Grazie a questa key adesso possiamo avere questo prodotto gratis e versione finale, quella completa. Quindi noi mettiamo qua. Io metto Intel Quick Sync Video è la migliore. Però se voi vi va bene anche mp4 mettete mp4. Mettete voi la quanto volete. Io di solito metto 1080p però per i video di Minecraft tanto non si vedono i 1080p su Minecraft. Quindi li metto a 720p. O modo di registrazione. Questo qua è direttamente ti trova il gioco che stai usando e li metti il microfono, registra sempre. Se lo fate con un altro programma, se non lo volete lasciate chiuso così. Se lo volete mettete le impostazioni che volete. Poi c'è la webcam che è USB camera, vabbè. Io non la uso. Poi. Poi cosa si passa? Si passa al live streaming. Non è collegato perché ragazzi? Perché devo collegarlo al... Devo mettere server rule, chiave stream, queste cose. E dopo si collega automaticamente al mio canale ragazzi. Uso anche qua 720p 36 frame. Qua i bitrate lo metete come volete. Dipende dal vostro pc. Servizio streaming. Ci ricerete voi quale andare. Se tipo Twitch, YouTube, Live Stream, Outstream, Aledz, Hitbox, Facebook. Qua lasciate auto riconnettersi così vi auto riconnette se succede qualcosa che manca la connessione. Andiamo a registrazione. Audio ragazzi. L'audio mettete o MP3 audio. O WAV. Ragazzi. Io vi consiglio WAV che è la migliore. Permette registrazione audio multicanale. Quindi più canali. Registra il silenzio. Quindi quando non parlate io metto sempre sì. Anche questo programma può catturare screenshot. Quindi formato del file PNG. Aria dello schermo intero. Mettiamo PNG. Tasti di accesso rapido. Come vi ho detto sempre mette registrazione video, registrazione audio, benchmark, catturare screenshot. E tutte queste qua. Potete mettere quello che preferite voi. E questi qua sono il tasto di accesso rapido. Mettete quello che volete. Poi UHD vuol dire dove volete vedere che si sono scritti gli FPS in alto, a sinistra, dove volete. Poi qua audio. Impostazione definite. Potete mettere il microfono che volete. Io metto il mio. Qualità video. Mettete qualità video bassa, elevato, ultra, ultra. Se avete un PC potente, elevato, non potente ma buono. Normale. Come me. Bassa proprio se avete un PC che fa schifo. E queste qua sono le impostazioni ragazzi. Poi se volete vi faccio vedere anche come io registro l'audio. Questa qua è Audacity ragazzi. Io quando faccio partire la registrazione prima da Audacity e poi da Action. Allora ragazzi. Prima innanzitutto dovete controllare bene il microfono che settate. Perché potete averne di più. E quindi sbagliate a metterlo. Poi mette due stereo. Quindi due canali e no uno che è meglio per anche poi editarlo. Altoparlante. Mettete Connex. Vabbè l'altoparlante che usate sempre. E mettete la sensibilità del microfono. Quanto volete. Dacibel in più. Dacibel in meno. Anche quanto volete sentire in più. Volume di riposizione in più. Volume di riposizione in meno. Ragazzi. Adesso faccio una prova e vi faccio vedere anche come pulisco i rumori di sottofondo. Allora. Adesso faccio una. Quando faccio la prova. Devo lasciare sempre una parte all'inizio che non parlo. Guardate così. Ciao io sono Lorenzo e benvenuti nel mio canale. Sentite questo rumore. Ecco. Adesso vi insegno come toglierlo. Selezionate una parte in cui c'è il rumore. Fate effetti. E dopodiché fate riduzione del rumore. Poi elaboro il profilo rumore. E dopodiché si prende tutto l'audio. E facendo doppio clic. E fa andando di nuovo su effetti. Riduzione del rumore. E fare ok. Come potete vedere. Adesso non sentirete più il rumore di sottofondo. Ciao. Io sono Lorenzo e questo è il mio canale. Grazie a questo tool. Come potete chiamarlo. Questo effetto. Non ci sarà più rumore di sottofondo. Fastidio durante la vostra registrazione. Questi qua. Sono i settaggi predefiniti. E io mi sto trovando bene. Quindi detto questo. Io vi dico che il video può finire qua. Commentate. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like per supportare questa serie nuova. E che dire ragazzi. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Io vi dico. Adios. Noi ci rivediamo.